Un omaggio esclusivo per i cittadini di Barletta, in particolar modo per il pubblico del Teatro Curci che ieri ha potuto gustarsi uno spettacolo speciale a cura del consulente artistico della stagione teatrale per il Teatro Pubblico Pugliese, Michele Placido. Il maestro ha inteso festeggiare il successo raggiunto dalla stagione teatrale 2015-2016 di cui aveva assunto il coordinamento artistico con un fuori programma dello spettacolo serata ad onore. Fuori programma nel vero senso della parola visto che le luci di scena si sono accese all'esterno del Politeama Barlettano facendo vivere un'esperienza singolare ed emozionante. Quasi due ore di spettacolo sotto le stelle con gli spettatori presi per mano e condotti da Placido in un dialogo nelle più belle pagine della poesia e del teatro. Un vero e proprio abbraccio a quella città pensando già alla nuova stagione teatrale dedicato alla grande canzone d'autore italiana e la canzone classica napoletana con melodia alternatesi alla poesia di autori come Dante, Neruda, Montale e D'Annunzio focalizzandosi su poeti e scrittori napoletani da Salvatore Di Giacomo a Raffaele Viviani a Edoardo De Filippo. Ad accompagnare il maestro in questo viaggio poetico musicale è già Luigi Esposito e il musicista Antonio Saturno. Prima dell'iniziativa presentati alla stampa nella sala giunta del comune di Barletta i principali appuntamenti della stagione teatrale 2016-2017 del teatro Curci. Ci sarà Tradimenti con la mia regia che vede in scena Ambra Angiolini e Francesco Scianna, testo di Harold Pinter e performance con Virginia Raffaele che è veramente qualcosa, una creatura, la chiamo così perché è talmente multiforme, talmente straordinaria, talmente artista che è con la regia di Giampiero Solari in performance e poi ci tenevo molto alla pazza della porta accanto con la regia di Alessandro Gasma con un'altra attrice che quest'anno è stata protagonista del cinema italiano con Perfetti Sconosciuti che è Anna Foglietta. Per non dire poi del padre con la regia di Piero Maccarinelli, Alessandro Haber sarà il protagonista con Lucrezia Lante della Rovere e Vacanze Romane che è invece naturalmente un classico della commedia che rappresenta un po' le grandi produzioni del Teatro Sestina di Roma con due attori che sono Serena Autieri e la regia Attilio Fontana sono i due attori, la regia è di Luigi Russo. Per adesso anticipiamo queste cinque grandi produzioni, poi ci sarà una conferenza stampa che seguirà e da lei lei. Chiudiamo una stagione teatrale che ha avuto uno straordinario successo grazie ad una collaborazione fondamentale come quella del maestro Placido, sottolinea il sindaco Cascella. Questo successo che ci ha spinto ad anticipare le scelte per la nuova stagione teatrale. Poi Michele Placido è una fucina di idee, non soltanto per la stagione teatrale ma anche peraltro, noi speriamo di coinvolgerlo anche per le iniziative rievocative della disfida di Barletta. Purtroppo noi dobbiamo misurarci con risorse estremamente limitate, però se alle risorse limitate si può compensare con delle grandi idee, allora le cose cambiano un po' e grazie a Michele ci stiamo riuscendo.